Per comprare i crediti inserite il coupon XanderGamer90 su GoFIFACoins.com per ottenere il 5% di sconto sui prezzi più bassi in circolazione. Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, un nuovo episodio del Road to Division 1 su FIFA 15 Ultimate Team. Dunque, siamo in Divisione 2, oggi giocheremo per la salvezza perché di fatto mi mancano 3 punti per la salvezza ma mi rimangono soltanto 2 partite da giocare e sono 8 punti dalla soglia per essere promossi in Divisione 1, quindi non ce la farò essere promosso in questa stagione ma dobbiamo assolutamente, ovviamente, salvarci. Quindi questo sarà il nostro obiettivo di oggi, scriveremo la formazione titolare, se siete attenti avrete già notato 2, anzi in realtà 1, perché l'altro ancora non si vede, un cambio, una novità, che è questo giovane ragazzo, di nome Lionel Messi, l'ho pagato con una cifra spropositata, avevo venduto di Maria, probabilmente l'avevo anche detto in qualche altro video, non mi ricordo, comunque ho venduto di Maria più o meno alla stessa cifra o poco meno, avevo più di 15 milioni da parte, li volevo tenere perché contavo di riuscire a reperire in qualche modo un Ronaldo Totti, purtroppo non è proprio possibile, Messi, Totti, stessa cosa, anche le versioni in forma sono praticamente scomparse, il mercato è stranissimo da quando hanno chiuso la web app, quindi addirittura la versione base di Messi è schizzata sui 10-12 milioni, insomma fa su e giù, alla fine l'ho preso di quanto è inutile che mi tengo tutti questi milioni, tanto qualche statistica in più o in meno cambia poco, Messi questo è, non male, devo dire per niente male, io direi di cominciare, ecco guardate, le partite giocate con il mio club, 8 partite e 6 gol, quindi non male direi, mi piace, l'altro giocatore che ho preso in realtà è soltanto un upgrade che ho fatto, perché da Benzema sono passato a Benzema Sif, quindi questo però l'ho fatto giocare adesso perché è un po' fuori forma, 88 insomma facciamo partire dalla panchina, quantomeno, almeno questa partita, e andiamo a giocarcela così. Una Bundesliga, la più classica delle Bundesliga. Si parte. Lewandowski. Obamayang dentro per Lewandowski, esci Casillas. Oddio. Oh mamma mia. Male male. Eh, ci sta. Pichè. Buon pallone per Griezmann. Griezmann. C'è Messi. Dentro per Radríguez. Porca. Il palo, va all'esterno, di Ames Radríguez. E senza, è lì dopo i tempi giusti. Ramos. Batte corto male. Royce. Dentro il pallone per Lewandowski. Palo fuori anche per lui. Che rischi ragazzi, che rischi però. Si gioca e si riparte Royce. Mezza a due Royce. Se ne va. Lascia sul posto dal difensore Royce. Royce. La mette dentro. Casillas fa una grandissima parata. E poi Ronaldo addirittura deve evitare il corner. Fermate Lewandowski. Meno male. Bravissimo. Qui Ramos a tornare. Col fisico. A disturbare Lewandowski al momento del tiro. Probabilmente sta per finire il primo tempo. No, si gioca ancora. Messi allora può mandare avanti Bale. Si porta il pallone avanti col petto Bale. 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 Voteng lo ferma. Rischia un po'. A questo punto fischia però. No, si gioca anche dall'altra parte. Si gioca bene pure. Lewandowski. Dentro per Royce. Royce. Si porta il pallone fuori. Quando fischi? Come corner. Battuto corto. Royce. Ancora corner. Tanto stiamo giocando un tempo supplementare qui. Finisce qui. Siamo al 45esimo da una vita. Pallone dentro. Poi testa. Palla fuori. Fischiamo? Si. Finisce qui il primo tempo. Partito abbastanza tesa. Giocato a malissimo da me. Alla fine non ho fatto neanche un tiro in porta. Anzi in realtà ne ho fatto uno che però non viene conteggiato. Che è il palo. Di Amens. E basta. Giocato abbastanza male. Presentato per ora giusto. Tanto stiamo a Royce. Partito. Il solito baggome da calcio inizio. E subito corner. Mamma mia. Si è tosta. Royce. Cross. Colpo di testa. Casillas. Ma salvato. Dai. Finalmente ho spazio per andare a crossare. Dai Bale. Dai Garrett. Bravissimo. Mettila dentro sta palla. Oddio. Non c'è nessuno. Tutti col tempo sbagliati sono andati. Mette pausa. Visto che lui mette pausa facciamo i cambi anche noi. Togliamo Griezmann. Mettiamo Benzema. Dai. E sì. Sbaglio a Boateng. Serve Benzema. Messi. Messi dentro per Benzema. Benzema. Benzema tu per tu col portiere Karim. Karim. Si presenta così. Karim Benzema. Si ripresenta. Perché questa è la versione Sif. Ma Benzema già la conosciamo bene. Gran palla di Messi. E subito il gol di Karim Benzema. Proprio i due nuovi acquisti. Attenzione però. Royce Royce. Mamma mia. Sti baldo vanno assolutamente i soldi però. Dai. Dieci ore. Lamm dalla bandierina. Cross. Esci Casillas. Esci. Bravissimo. Attenzione però. Non lo fate tirare. Non fate fare niente. Vai. Vai che ripartiamo pure in contropiede. Vai. 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 Bravissimo. Ames. Dentro per Messi. Attenzione al contropiede. Messi. 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 Messi in destro. La parola. Trap. Madonna sulle linee. Madonna sulle linee. Mamma mia. Attenzione. Royce. Oddio. Oddio parte Aubameyang. Soberde Marcello. Aubameyang. La finta. Rientra. Aubameyang. Aubameyang. Non è rigore. Non c'è prova eh. Non. Non mi ha dato rigore. Ah. Questi bug. Bapì. Sto gioco. Non puoi. Non puoi. Andargli vicino in area. È sempre rigore. Te devono cascare le gambe tanto. Ma. F***. F***. Vabbè. Vabbè. Sergio Ramos La mette dentro Benzema Causa un autogol Non so cosa Ah fallo Scusate sto sempre senza audio Giustamente non so che cavolo di fallo ho fatto Vabbè Probabilmente lo stesso che ha causato rigore Chedira Prova il lancio Cae Ramos La balla sbatte sulla schiena di Ragazette Finisce qua 3-1 Si gioca tutto l'ultima partita Quindi non siamo neanche sicuri di rimanere Nell'isola e due Bene Mmm Una squadra per niente veloce Per niente baggata insomma Bene Si comincia Ragic Dobbò subito il pallone Messi Dentro per Benzema Che stavolta gioca titolare Ancora Benzema che recupera Per Messi Dentro per Rakitic Anche lui titolare al posto di Ames De Gea Messi poi Rakitic 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 De Gea si stende Busquets Messi Allarga dall'altra parte dove c'è Ronaldo Solo soletto Mai lasciare Ronaldo così solo Avanza Ronaldo E tenare Ronaldo Ronaldo Palla bassa al centro per Benzema Facile facile 1-0 Ho detto mai lasciare Ronaldo lì da solo Benzema poi non fallisce Di prima intenzione Col sinistro Di incrociare Batte il portiere 1-0 Al sesto minuto Ottimo dai Dunbià Baggatissimo Dunbià Casillas Ramos Bravissimo Poi Rakitic Benzema Messi Andare da solo Messi Ne salta 2 Messi Ne salta 3 Messi 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 Fallone poi per Benzema Fallo E vabbè Che cosa ha fatto Messi Un'azione alla Messi Ronaldo Benzema Ancora per Ronaldo Che cross Di prima intenzione Messi di testa Tenta il pallonetto addirittura Non l'ho fatto io Ho fatto proprio di testa sua La rilancio di De Gea Miranda Ronaldo Rakitic Dentro per Benzema 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 Dentro per Messi Non era male l'idea Poi Busquets La recupera però La serve a Nengoran E poi la rirecupera Ramos Busquets Dentro A incrociare per Benzema Non si sono capiti Attenzione Lombia C'è qui Ma dove vai? C'è Ramos Poi Busquets Benzema Messi Con calma Per Ronaldo Dentro per Benzema E non era male l'idea Però basta Mette Paso Un secondi Che cazzo Ah Se ne è andato pure lui Dico pure lui Perché tanto L'avrò tagliato L'avversario di prima A metà primo tempo Ha acquittato Però siccome Ramos 3-0 Me l'ha fatta ripetere Ha acquittato pure questo Però a parere Nel dei punti Perché Insomma Stavo vincendo Dammi questi dei punti Chiudiamo qua Stasagione Oh Finalmente Salvezza E dalla prossima volta Ci riproveremo Ci riproveremo Ad arrivare a quella Fatica Qua 18 Io vi ringrazio Per aver seguito il video Mi dispiace Che non si riesca A finire una partita Per dire questi bimbi minchia Perché Ripeto Ho giocato tre partite Una sola Se non riuscire a finirne L'importante comunque È che ci siamo salvati Grazie per aver seguito il video Lasciate un like Se vi è piaciuto Noi ci vediamo Come al solito Settimana prossima Domenica prossima Con un altro episodio Del rotto di Vision One E in settimana Con altri video Un saluto Ciao